Ben tornati ragazzi con una nuova parte di The Legend of Zelda Twilight Princess Io sono TheFDL e siamo nel bel mezzo di una battaglia miniboss contro questo tizio Questo se lo vedete, lo sto indicando E abbiamo finito la prima parte della battaglia Adesso c'è la seconda che è ancora più complicata Quindi ci incendiano il muro di legno alle spalle e quello alle spalle sue Quindi siamo intrappolati qua Vabbè, il modo c'è E io non l'ho mai capito Bisogna arrivare in fondo Bisogna passargli di fianco e colpire Schivarlo, possibilmente E colpirlo, ma io non ce la faccio Colpito una volta Non durerà tanto Anche se si feilla, tanto è veloce sta battaglia Anche se si feilla tanto Fuck, ma ha beccato lui Vabbè, no problem Tanto lui non Ah, non l'ho beccato Fuck È difficile la seconda volta E Comunque la prima volta L'abbiamo già beccato Bisogna beccarlo solo due volte per fortuna Senza Oh, ma O gli passo troppo distante O gli passo troppo vicino E mi becca Beccato Meno male Quanto siamo? Due minuti Due minuti di registrazione In due minuti ho già finito il boss Mini boss Per la precisione E B Co E B Co Epicità allo stato puro Link Gli altri Stanno bene? No Sono dei fantasmi Meno male Scusami Betty Scusami se ti ho spinto Sei arrabbiata Ecco come si chiamava la quarta Betty Non mi veniva in mente Betty Quindi Furio Birbo Colin E Betty Credo Credo di aver capito finalmente Ho capito Cosa intendeva mio padre Quando mi diceva Che dovevo diventare forte come te Link Non si riferiva Solo alla forza fisica Ma soprattutto al coraggio C'è un bel simboletto sulla mano Che lo dice Link Mi hai salvato tu Sei Sei davvero eccezionale Link Ci penserei tu a sistemare la situazione con Igor Nella miniera Vero? Ok Ok Adesso Prima di andare Al La miniera Goron Che spoiler È il prossimo dungeon Dungeon Andiamo Dov'è? Dov'è che non me lo ricordo mai Più indietro? Prima è sì Era qua Andiamo Qua dentro Perché c'è una cosa molto importante Se avete Se avete giocato anche ad altri giochi di Zelda Non solo a questo Sapete che Prima del dungeon Del fuoco Che il prossimo È il dungeon del fuoco Si può comprare uno scudo diverso da quello di legno Perché quello di legno si brucia Ecco Questa è un po' la bottega di Terry di questo gioco Cosa fai con quelle manacce? Questi sono articoli preziosi Se intenzione di comprarli tira fuori le rupie Chiaro? Ho deciso di prendere in gestione questa bottega abbandonata Compra qualcosa anche tu Fallo per il popolo di Calbarico Compriamo lo scudo di Hylia Che è lo scudo Per l'appunto resistente al fuoco Costa 200 rupie Quindi vedete di avere 200 rupie Quando Va bene Tieni allora Hai ottenuto lo scudo di Hylia Per difenderti usa Z È di metallo Quindi non brucia anche se sposta le fiamme Bla 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 E compriamo qualcosa Voglio svuotarmi completamente il porta rupie Forse non diventerò mai un eroe Ma posso dedicarmi a un'attività eroica Vendere merce al popolo Aiutami anche tu Allora Ho l'altra un po' la vuota Quindi posso Devo svuotarmi un po' il porta rupie Perché Ah non questo La pozione vita Devo proprio svuotarmi il porta rupie Perché Il tempo è denaro Se hai finito di fare ciò che devi Fila via Ok Ho finito di fare ciò che devo Perché Allora Prima di un dungeon È sempre sempre meglio Equipaggiamo questo scudo Adesso è molto più faigo Link E pian piano sta diventando Il link di sempre Se Se Lo notate Questo è È anche lo scudo Che ha in Super Smash Bros Brawl Ma la spada no Lo scudo si ma la spada no Adesso dobbiamo avviarci al monte morte Allora Assegniamo gli stivali Io li assegno sempre a questo tasto Il boomerang di là La fionda tanto per Tanto per No E andiamo di qua Verso Il prossimo dungeon Quanto siamo di registrazione? 8 minuti Allora Saliamo Sarà velocizzato probabilmente questo Quindi non capirete quello che dico Te lo ripeto Tu di qua non passerai mai E non illuderti di tenere testa alla mia forza Stivali In fretta Vedete che adesso è possibile bloccarlo il Goron Togliamo gli stivali e saliamo Allora Di solito al monte Goron Ci sono le rocce che cadono Di solito In altri giochi Qua invece c'è Ci sono i Goron stessi che cadono Non sono riuscito a fermarlo Oh L'ho fermato Propia mia Non avete notato quanto Link sia lento mentre Fuck Perché devo parlare? Mi sto facendo beccare da ogni singolo Goron che rotola Non mi servono rupie Mi servono cuori Mi sono appena svuotato il portarupie apposta Allora Questi getti di vapore Si possono Ah Via Scappa Ti lanciano le frecce addosso Tu cosa fai? Stai in mezzo? Quanto siamo? Dieci minuti Possiamo Anche già iniziare il dungeon Forse Non forse C'è Lo iniziamo anche il dungeon Dai C'ho un pezzettino di dungeon Ti può arrivare all'entrata Perché c'è anche un percorsino da fare all'entrata E questo ci sarà utile Un pezzo di lava gigante Sta attento Guarda che pandemonio Benvenuto sul monte morte Fuzione vita Non voglio iniziare a sentirmi Oh Scusate Screensaver Ok Però adesso i Goron Sono nemici Quindi Saliamo sulla Groppa Quando si arrotolano E Eh What? Ma perché? Fuck 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 Quello Vabbè ci si può arrampicare Da qua Non è vero Bisogna per forza ammazzare Sto Goron Dai Oh Menomale Finalmente Anche te Ti becchi un altro attacco rotante Un bel attacco rotante Ah questo Questo Ci ho messo un po' a capirlo La prima volta In pratica bisogna usare gli stivali Semplicemente E' la prima volta Tre ore a capire Eh di qua non posso passare Di qua non posso passare Invece Bastava usare gli stivali Fuck Link si è girato dalla parte sbagliata Poi non è possibile Ciao Goron E finalmente arriviamo Dopo anni d'attesa No Link Non fare cazzate Entriamo qua E No Posso fare ancora un po' Cosa succede? Alto là Questo Io lo chiamo Il padrino Questo Pivello Non merita Certo Che un esercito Di Goron Li vada addosso Ah Io sono Donardesio L'anziano Del villaggio A causa Di indeterminate Circostanze Ora sostituisco Il patriarca Dalvos Alla guida Di questa tribù Da dove vieni Roccia? Dal borgo Ah N'hai fatta Di strada Niente male Per un umano Tuttavia Da qui si entra Nella terra sacra Della nostra Della nostra Tribù Da quale i forestieri Non hanno accesso Solo perché si chiama Donardesio Lo chiamo Padrino Se vuoi proprio Proseguire Per questa via Dovrai sconfeggermi Ah Vuoi farti strada Con la forza Sì Perché di solito Don O è Prete L'appellativo Non il nome Non il nome L'appellativo Don O è da Prete O è da mafioso Quindi L'appellativo Non il nome Se c'è qualcuno Che si chiama Don Sappia che Può benissimo Non essere Né prete Né mafioso Comunque Vabbè Questo lo chiamo Padrino Perché si chiama Donardese Non abbiamo speranze Contro di lui Se non indossiamo Gli stivali Con quel colpecino Che hai Direi che sei Un po' troppo Leggero Per me Non hai nessuna Possibilità Di varcela Torna pure Ti aspetto a braccia aperte Saliamo Con i nostri Stivali Cosa? Non farmi sfracellare Dalle risate Vuoi veramente Combattere di nuovo? Voglio sfidarti Non ti è bastata La lezione E va bene Fatti avanti Dai Perfetto Andiamo qua Tutto il paccio Però Mica male La briciola Umana Allora Fai sul serio Senti un po' Poi ha cominciato Poi ha cominciato a muoversi All'impazzata E il vulcano Ha preso a derruttare Persino più di prima Abbiamo usato Tutta la nostra forza Per sigillare Alvos Nelle profondità Della montagna Ma mi vergogno Ad ammetterlo Ora non sappiamo Cosa fare Devi aiutarci tu Roccia Devi salvare Se tu sei qui Perché lo spirito Ti ci ha condotto Te lo chiedo Sfrondatamente Aiutaci Fallo per me Per la nostra cibù Nostra cibù Voi due Lasciate passare l'umano Ok Togliamoci gli stivali E quanto siamo? 19 minuti E mezzo Mi fermo qua Spero che il video Vi sia piaciuto Anzi entriamo Perché così poi Magari ci ritroviamo qua Nella prossima volta Perché adesso Smetto proprio Il clip Miniera dei Gora Allora mi fermo qua Spero che il video Vi sia piaciuto Iscrivetevi al mio canale Commentate E seguite la mia Let's Play Noi ci vediamo La prossima volta Con The Legend of Zelda Twilight Princess Ciao ragazzi